Non è di oggi ma è una posizione che viene da lontano, io sono convinta che serve un nuovo ospedale ma in tempi celeri e in un'area disponibile all'interno della tangenziale, quindi sapete che il mio punto di vista è che serve un'area diversa da quella designata dall'attuale amministrazione che tra l'altro ricordo è in un terreno agricolo quindi non disponibile con evidenti problemi di viabilità e rischi idraulici. Ma non è tutto, c'è anche un'azienda lì appunto che fa agricoltura biologica e che ha aperto un ricorso contro la richiesta di esproprio, sono ormai passati 5 anni e ancora l'area non è in disponibilità del comune, tutto fa pensare che non lo diventerà da qui a pochi mesi, quindi la nostra proposta permetterà invece di avere un nuovo ospedale a Piacenza in tempi certi e in una zona con caratteristiche adeguate sia dal punto di vista della viabilità ma anche da quello ambientale. Grazie